Salve a tutti e bentrovati. Oggi ci troviamo qui con Enrico Bai con la patafisica che è la scienza delle soluzioni immaginarie. Patafisiche e le avanguardie capitanate da Duchamp e dal movimento Ulipu di cui ho già parlato in altri video. Questa non è la prima volta e non penso sarà neanche l'ultima perché il divertimento è per me assicurato e mi auguro anche per voi. Questo Ulipu che cos'è? Ricordiamolo è un laboratorio di letteratura potenziale e i satrapi tra cui questo Farfa, Vittorio Tommasini, cartopittore, areopittore, proprio fa capo a Duchamp che era il grande satrapo del collegio, facente parte anche del movimento Dada e anche di quello surrealista. Quindi siamo un po' in questa dimensione culturale di avanguardia. Fondamentale per questi movimenti sono i concetti di volontà, di resistenza messi in atto proprio nella vita quotidiana. Si abbraccia un altro concetto fondamentale, quello dell'automatismo, dell'action painting, dell'informale che troveremo con Enrico Bai nelle sue maschere e nelle sue opere che andremo a vedere. Questo discendeva dall'automatismo surrealista, aveva queste basi, queste radici, che ancora possono essere rintracciabili, lo dico perché chi vuole poi approfondire gli argomenti, io qui non sono solo per presentare questi due testi fondamentali, la patafisica e la biologia dell'arte di Enrico Bai, ma per fornirvi tutta una serie di input che spero seguirete. Quindi se volete andare ad approfondire troverete delle radici sicuramente in Rimbaud, in Jean Rie, nel poeta franco-belga Messen, musicista, pittore, amico di Magritte, di Paul Eluard e di André Breton. Anche la poetica di Lautremont, per esempio, sono tutti autori che andrebbero un po' assaggiati anche qua e là, la loro poetica e il loro pensiero. Il surrealismo raccoglie, abbiamo detto, l'eredità d'Ada, di cui ho fatto anche un video anni fa, praticando la scrittura automatica, come ti dicevo, e tutto quello che riguarda la dimensione di spontaneità, dell'irrazionale, del fantastico, del fantasmagorico che sgorga dall'uomo. E questi pittori ricchi di stramberie, come per esempio, se vogliamo anche qui andare un po' più indietro, ricordiamo Arciboldo e Bosch, come radici pittoriche a cui anche lo stesso Bai, in qualche modo, si ispira. Un principio che è geniale, tocca proprio il vertice dell'accume, dell'intelligenza, a mio avviso, perché è quello del principio dell'equivalenza dei contrari. Tutto è il contrario di tutto. Tutto è la stessa cosa. La velocità viene ugualizzata alla statica, non solo comparata, ma proprio messa sullo stesso piano. E da qui nasce quello che è per me un cappolavoro assoluto, e quindi non posso rinunciare a questa occasione per leggervelo, che è il manifesto del futurismo statico. E qui non vi anticipo niente, cioè, proprio, è un vero e proprio capolavoro. Avevano dormito tutta la notte avvolti in morbidi e voluttuosi tappeti orientali. All'alba, nel dormiveglia che anticipa le luci, le illusioni svaniscono. In un gigantesco affresco disegnato dal fumo delle ciminiere, tutto divenne postmoderno, postindustriale e soprattutto postdinamico e postmotorio. Il futurismo aveva fatto proseliti ovunque. Era il movimento artistico che ideologicamente, strutturalmente, aveva pronunciato, preannunciato, più di una volta, più di ogni altro, l'ansia del tempo. Movimento e velocità, con tutti i loro aggregati, di audacia, ribellione, energia, aggressività, dinamicità, corsa, furono le parole di Marinetti che seppe sfruttare al massimo Grado la devianza dinamica dell'uomo. Movimento e velocità divennero dei capisaldi dell'ideologia, del progresso continuo, della sfida, della natura. A qualunque prezzo, in specie, a quel consumo energetico che è alla base della crescente entropia di oggi. Anche la scultura, da sempre pesantemente statica, pur non alleggerendosi, ad opera di boccioni e compagni, diveniva a parole plastico dinamica. Tutti viaggiavano, tutti vanno in aereo, non solo i rappresentanti di commercio, ma anche i pittori, pensatori, sociologi, scienziati, ministri, capi di sette religiose, papi, tutto va finché va. Può o forse deve il filosofo e il pensatore venire assimilato per via di tale ubiquità ai forzati del turismo di massa? Il dinamismo plastico di boccioni si è avuto anche un'areopittura, cioè una pittura fatta in aereo o conseguente a supposte emozioni aeree. Ma questi dipinti, sebbene li osserviamo, non volano affatto, sono più statici della fornarina o della gioconda. Immobilità è segno di grandezza, di storia, di durata, di contemplazione, di vita, di cultura, di morte. Immobilità è segno di contemporaneità. Cosa fanno le nostre automobili? Status symbol, primario del nostro vivere, della nostra spiritualità, se non per la più parte del tempo stare immobili durante interminabili code? E quindi vedete che qui c'è il ribaltamento del futurismo. Ma tutto è una stessa cosa, perché la velocità viene ugualizzata all'estatica, perché tutto è il contrario di tutto. Moto e turismo, fideista e aviatorio. E arriviamo proprio qui, facciamo una brevissima pausa, un brevissimo stacco, perché bisogna valorizzare, tenterò di farlo nel mio piccolo, questo proprio manifesto, perché così come c'è stato il manifesto futurista, non può non esserci anche, quello è antifuturista, futurista statico, come viene detto. Noi disprezziamo il pericolo, lo spreco, la forza. Punto uno. Coraggio, audacia, esaltazione portano lotta e morte. Punto due. Tre. Disprezziamo il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Esaltiamo la quiete pensosa, l'estasi del sonno e il dolce far niente. Quattro. Velocità e bruttura. La più bella automobile da corsa, ruggente, che sembra correre sul filo della mitraglia, fa schifo se paragonata a una qualunque immagine naturale o artistica e si lascia in pace la vittoria di Samo Traccia. Cinque. Noi disprezziamo il volante, il cambio, l'acceleratore, il motore sprint e la fetente benzina, droga ad ogni motorista, la petrol dipendenza e a livelli insopportabili. Sei. Ardore, sfarzo e munificenza accompagnino la creatività del poeta lontano da roboanti, ferraglie. Non vi è bellezza se non ne la quiete, l'aggressività non ha a che fare con arte e poesia, anzi ne è l'opposto. La dimensione umana si svolge sempre nello spazio e nel tempo, dice il punto 8, nei limiti del territorio della durata. L'eterna velocità, ogni presente, è una coglioneria bella e buona. Vogliamo giacere fornicando senza fretta. Nove. Vogliamo glorificare la donna e disprezzare la guerra, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore e le belle idee per cui si muore. Belle tra virgolette. Unica morte accettabile è quella nel proprio letto. Dieci. Musei, biblioteche, accademie non ci riguardano, ma non vi è alcun bisogno di distruggerle. Siamo per il femminismo, per la donna portatrice di vita e non di distruzione. Respingiamo quindi l'immagine aberrante di una parità sessuale che non esiste e la maschilizzazione nel capitanato d'industria, nella competizione e nella violenza. Undici. Fanno schifo le grandi folle, manipolate dai media, il fervore degli arsenali e dei cantieri, i fumi puzzolenti e benefici delle officine, i moti rivoluzionari e fasulli, delle violente e criminali città moderne. Fa schifo il baccano delle locomotive e ogni pretesto motoristico che induce corruzione, consumismo, miasmi, inquinamenti e incidenti a catena. Vogliamo una città solare. Noi fondiamo oggi il futurismo statico. In nome dell'immobilismo plastico, per liberare gli uomini dalla cancrena del moto, del motore, del turismo, dopo lavoristico o intellettuale che sia, la miglia. Voi ci credete pazzi mentre proponiamo una nuova sensibilità. Fuori dall'atmosfera gli spazi sono infiniti. il sistema galattico in cui viviamo è di tale grandezza che in esso ogni moto si annulla. Nella calma e nell'incedere di chi voglia ancora spostarsi naturalmente potremo ritrovare la misura di noi che è illuminazione. L'immaginario dei cieli è il nostro habitat che scandisce il tempo nel divenire della memoria. Stesi sul letto del mondo accarezziamo la volta. Stellare. Ubu è con noi. E chi ha letto il manifesto futurista e chi non l'ha letto visto che si studia a scuola ma chi non ce l'avesse troppo presente consiglio di andarlo a leggere e di compararlo con questo. E qui ne cogliete tutte le sottigliezze tutti gli elementi senza nulla trascurare con un atto di un'intelligenza e di un'ironia direi unico. Perché se dal futurismo si inneggiava la guerra al militarismo all'industria alla velocità e vi è proprio un ribaltamento completo. Opla come piace a me questo video l'avrei dovuto fare capovolta accidenti. Chissà se mi verrà in aiuto la tecnologia. E quindi voltando la frittata si prendono in giro in modo però sempre bonario mai cattivo mai troppo cattivo i generali, i militari, i movimenti fascistoidi o consumistici. Fino all'irriverenza più completa, più assoluta, tutto in vacca. Il Berlus Kaiser è una sorta di ubu, vi invito ad andare a vedere questa opera. È un ubu moderno. Anche pittori come Groz o Otto Dix conducono, ricordiamolo, una satira feroce contro questi temi, i dispotismi e i regimi militari. Ma lo fanno in modo più serio, più drammatico. Bai lo fa invece in modo ludico, giocoso. E quindi sono queste maschere che camuffano, che camuffano loro stesse un impegno costante, serio, civile e che sortiscono a mio avviso un effetto ancora maggiore, di maggiore forza di denuncia proprio attraverso questa modalità ludica, giocosa. Il gioco che è serio. Io è una cosa che ho abbracciato un po' nella mia vita, non so se anche proprio nel mio quotidiano vi dirò questo aspetto di non prendersi mai troppo su serio o di cercare di dire cose estremamente serie e importanti ma in modo sempre ludico con trucco e parrucco. E quindi abbiamo le parate militari, le facce fatte di tubi che richiamano agli organi interni, a rubinetti, ai sifoni, a richiami anche pseudosessuali, organi sessuali, alla scienza, alla manipolazione genetica, a quelli che possono essere temi anche ambientali, temi femministi, a contro il nucleare, una dimensione interplanetaria tube fatta, tube fatta e in perenne attesa di che cosa? di alieni. Di alieni e di invasioni di mondi, di mondi immaginifici. E vediamo che un'altra idea di utilizzo dell'arte che mi ha colpito e che mi piace tantissimo è quella di Bakunin. e ve la voglio proprio anche qui, non perdo occasione di leggervela, dove viene detto trovo valida questa proposta di Bakunin, sentite, utilizzare l'arte nella vita. Invece che nei musei, in modo diciamo quasi consumistico dell'arte o artefatto, qui l'arte si inserisce nella vita, sentite come. Quando? Nei momenti drammatici. Questo richiama alla mente il recente furto dell'urlo di Munch del Museo di Oslo. Io non discuto delle ragioni ideologiche degli anti-abortisti che rubano il quadro per comunicare un proprio messaggio, ma è straordinario che l'arte venga usata per affermare un'idea e quasi per combattere una pratica, che si ritiene di dover contrastare assolutamente. In questo modo l'arte torna a vivere e poi è la prima volta che con la storia del furto di Munch, che parliamo di un furto dove l'arte non è più, non è più una merce di valore. Di solito si ruba un quadro che vale molto denaro, perché ci sarà da pagare un riscatto per riaverlo. Invece in questo caso è stato rubato un quadro per una ragione ideologica. Vedete? Quindi un altro, sempre la stessa azione, ma usata per scopi diversi. L'arte torna finalmente ad adempiere, dice vai, una funzione come quella che voleva Bakunin, di usare l'arte per sbarrare il passo ai nemici che avanzano. E infatti a Dresda nel maggio del 1849, e credo che c'era anche il giovane Wagner, Bakunin vedendo avanzare la milizia contro gli insorti, pare avesse proposto di prendere il più bel quadro del museo, la Madonna Sistina di Raffaello, e di metterlo davanti alle barricate. Ecco un fatto del genere visto da te. Quindi vedete? Utilizzare l'arte per frenare un'azione violenta. Prendere proprio il quadro fisicamente e porlo sulle barricate. E te, veramente ha una forza questo pensiero, ha una forza, una carica, un'energia travolgente. E ancora abbiamo parlato di satrapi. E tra i satrapi importanti abbiamo anche, citiamo Umberto Eco, che viene detto trascendente satrapo del College de Pataphysique di Francia, dove i nuovi eletti figurano Enrico Bai, Baudrillard, Dario Fo, Edoardo Sanguinetti. E Bai proprio in particolare esegue delle incisioni tra il 52 e il 53 per il Dererum Natura, riprendendo il Dererum Natura di Lucrezio, e quindi ribadisce proprio rivisitandole le idee sulla struttura materica del clinamen, sulla caduta degli atomi, evocando la convergenza della sua dottrina ancora una volta con concetti opposti alla fisica più recente. E quindi lo fa con un humor, un senso del humor graffiante, portandoci proprio in terreni diametralmente opposti a questa arte interplanetaria, come viene detta, inventando questi alieni, queste creature spaziali, che invadono, sono invasori del pianeta Terra, con i dischi volanti, con ultracorpi, ispirati alle credenze di massa e canzonando la paura di un invasore esterno, di un sistema di oppressione ignoto, che ci minaccia, e invocando il mostro di bellezza, che spaventa e attrave, in analogia proprio con la teoria di Jarry, patafisico per eccellenza, sul mostruoso. E quindi questo farsi beffa, diciamo, del potere scientifico e delle sue paure, delle sue storture, con queste maschere imbottite d'ovatta, che si burlano dei miti scientifico popolari. Tutto ciò unito alla beffa antibilitarista, i famosi collage polimaterici, molto belli anche proprio esteticamente, secondo me così pieni di materiali diversi, così variegati, così che stuzzicano la fantasia, e così bambini, così bambineschi proprio, dove però vi è una critica corrosiva all'oppressione, alla militarizzazione. E arriviamo a questo Ubu, che viene citato appunto alla fine del manifesto statico del futurismo, patafisico. Ubu è uno dei personaggi più noti e visitati da Bai, dove proprio c'è l'idea di questo re Ubu, di questo generale ricoperto di medaglie, disposta a parata, come una sorta di burattino, e quindi c'è dietro questa satira, ricordiamo, ferocissima al potere militare, fino ad arrivare negli anni Ottanta a uno splendido lavoro teatrale, delle storie di Ubu, per Massimo Schuster, che vengono graficamente rappresentate da Bai, e anche con, ricordo ancora, la collaborazione, vi invito ad andare a vedere meglio le opere teatrali, pittoriche, la collaborazione, dicevo, con Fontana, quello dei tagli, e con il fondatore del proprio movimento dell'arte cinetica, Giovanni Anceschi. Mi è caro, non solo perché io ho fatto la tesi su suo padre, Luciano Anceschi, padre fenomenologo, importante della fenomenologia in Italia, Bologna, e Giovanni Anceschi, suo figlio, proprio che per me è stata una vera scoperta, leggere o vedere le sue opere, i suoi allestimenti, con una forza, proprio della sperimentazione, dove si diffondono quello che è, non so, lo spazialismo, l'arte nucleare, e anche la rivista, mi richiamo, Il Gesto, documenta che nascono nuove modalità espressive, oltre a questa arte dei buchi, per Fontana o l'arte cinetica di Giovanni Anceschi, le opere si chiamano effetti, e allora abbiamo i quadri, i clessidra, le tavole di possibilità liquide, per esempio, percorsi liquidi, spiralici, che prevedono la partecipazione interattiva dello spettatore, che quindi non è più solo uno spettatore passivo, ma diventa una sorta di coautore, un altro aspetto a me molto, molto caro, che mi preme sempre sottolineare. E queste strutture acrome e tricome, dove si sviluppa proprio quelli che sono elementi percettivi, di sensibilizzazione, di stimoli cinetici, ciclici, interferenze, quindi abbiamo sempre un movimento, anche qui, accanto alla staticità, il movimento, ma preso in modo diametralmente opposto, diciamo, a quello futurista, che crea un ambiente stroboscopico. E a Parigi, nel 1964, abbiamo quello degli shock luminosi, dove si brevettano proprio dei liquidi imbustati, particolarissimi, veramente, che verranno, tra l'altro, imitati in tutto il mondo, dall'arte milanese a forme di cravate, abbiamo veramente una ricchezza creativa in quel momento, un pullulare di idee, i bastoni da passeggio, i sandali, le tovagliette per la colazione, tutto con questo spirito ingegneristico, che si richiama sempre alle maschere di Pantagruel, di Gargantua, di Rabelais, della Commedia dell'Arte, dove fa da padrone la satira, che producono uno spettacolo animato, che si muove proprio tra il gioco e la cruda realtà, che arriva a essere quasi crudele, perché arriva anche a richiamarsi a un'Italia che affonda come una nave, e quindi a una morte della nazione, dell'idea di nazione, ma che poi invece risorge o si risolve in quello che è uno spirito sempre estremamente patafisico, una forma mentis, che è quella dove l'uomo nevrotico moderno in realtà è un bambino che gioca con le marionette, con i tubi, con l'acqua, con tanti materiali, col cotone, con la tanto demonizzata plastica, con gli opposti, con i paradossi. E leggo l'immaginifica visione dei Ghirigori, trovata qui, veramente questa vale tutto il libro, è un passo notevole che veramente l'ho scritto, guardate, non so se si legge, notevole ho scritto, perché veramente mi ha stupito questo modo di approcciarsi all'arte e alla realtà. Kant affermava che in un oggetto la bellezza poteva essere definita come finalità formale e da percepire senza la rappresentazione di uno scopo, svincolata da finalità utilitarie, liberata da elementi concettuali e da ogni contenuto concreto. La pura bellezza si identifica con l'arabesco, il puro arabesco del disegno. Secondo Luciano Anceschi, Autonomia e eteronomia dell'arte, 1976, e anche per Kant, l'arabesco nel libero gioco dell'immaginazione scopre i rapporti tra il mondo della contingenza e il mondo della libertà. Esso diviene la più sottile e delicata metafora dello spirito, un diaframma fragilissimo attraverso il quale l'uomo può avvicinarsi all'assoluto, da qui il tipico altissimo piacere estetico per l'arabesco in sé. Anche Baudelaire fu sempre attratto dalle volute di un disegno di una forma, al punto di spiegare la sua attrazione verso tutte le curve e le figure immaginarie che gli elementi reali di un oggetto creano nello spazio. Attraverso l'invocazione l'arabesco produce la liberazione di stati inconsci. E cosa è mai l'arte di invenzione, se non una produzione di inconscio e di ricerca e di approdo alle spiagge dell'ignoto, quell'ignoto che, per dirla come Rimbaud, viene illuminato dalla veggenza del poeta? Poi all'arabesco, che tra le sue volute, evocando riti e volutà perdute, allude al pureo piacere estetico, a partire dal 1920, e cioè dall'astrattismo geometrico di Mondrian e dal design propiugnato dalla Bauhaus. Non più fronzoli, non più decorazioni, linea dritta, sembra la parola d'ordine di un'arte che vuole essere concreta, positiva, funzionale, per adattarsi al prodotto industriale, alla meccanicizzazione del mondo. Effettivamente la ridondanza dell'ornamento superfluo dei fregi floreali e delle incrostazioni rococò, affiorate col passaggio dell'accademismo a un decadentismo alla Gustave Moreau, poteva provocare, oltre alla noia, una sensazione di perdita di equilibrio accompagnata da fastidio. Ma la conseguente reazione, con quel ridurre la pittura e la visione al mondo a una geometrizzazione forzosa, sospinse l'arte lontano dai suoi territori sensibili e irrazionali, per avviarla a una sorta di razionalizzazione delle forme dell'immaginario. Nel cosmo non esistono linee rette. Diciamo che le linee tirate con la riga e con la squadra sono una convenzione, una semplificazione, necessaria per costruire, per elevare grattacieli, per tracciare mappe cartastali. Bambino, ero solito passare l'estate in una villa vecchiotta, cadente. Esiste ancora quella casa, ormai slabbrata, e in preda alle trame dei ragni e alla polvere, che via via si addensa sui mobili e sugli arredi. A penetrarvi ora, i bambini si meravigliano, provando un senso di attrazione e di paura. Era stata scostruita all'inizio del secolo, proprio mentre si gettavano le fondamenta di altre artistiche costruzioni, ed era ricca di addobbi. Così, da piccolo, fissai nei ricordi, a futura memoria, tutto quel senso di decorato ornamento che vedevo tutto intorno, cupo talvolta, eppure pieno di volute, di involute, di tracciati, intrecciati, di stilemi, arborei e vegetali, di scuretti dipinti a incorniciare questa o quella decorazione. Fregi quasi canori, da addobbi arabescati, damascati, fogliami d'accanto e ramage, venivano percorsi, quasi ridisegnati, da occhi infantili. Su per gli arzigogoli, giù per le mantovane, discendenti e fioccaie cadenti, e poi dentro, alle curvilinee, ai festoni, ai paramenti di righe artigliate, ridette, piegate, avvolte, infiorate, a ripetersi, senza posa, nell'arabesco, di un labirinto infinito. E la linea tortuosa dell'arabesco, dell'arzigogolo, del ghirigoro, quella che puoi inseguire a perdita d'occhio, mentre stai fermo, in statica contemplazione, è l'arabesco della linea tortuosa, è il tormento dell'arzigogolo e del ghirigoro, quello che ti porta lontano, molto a di là di chiuse, forme geometriche. Non ve l'ho letto tutto, ho saltato arzigogoli e arzigogoli, ma vi ho voluto dare comunque un assaggio nel limite del tempo di veramente un pensiero ricchissimo, arzigogolato e barocco al punto giusto. E concludo questo percorso spero ricco di spunti e di soluzioni immaginarie per problemi inesistenti da metamorfosi a metamorfosi per un'ecologia, un'ecologia dell'arte, richiamandomi a quest'opera enciclopedica che prende spunto dal libro di Battison verso un'ecologia della mente perché ancora prima dell'inquinamento ambientale, sentite qua, di quello territoriale c'è quello della mente e Bai proprio riallacciandosi all'inquinamento, alla tossicità dell'aria, dei fumi, proprio denuncia denuncia la benefica tossicità dell'immaginario. L'arte subisce devastazioni e c'è una preoccupazione di fondo molto forte chi diceva la morte dell'arte già con Hegel si parla ma sui modelli del comportamento vi è l'urgenza proprio di restaurare di rinnovare di ripulire di salvaguardare le opere d'arte e proprio bonificando depurando il dialogo scrittura pittura scultura perché torni a essere fecondo anche attraverso il teatro attraverso le maschere attraverso il teatro dei burattini e si rieppropri di un di un senso per restituire all'uomo proprio dei territori saluberrini di libertà e di fantasia namastè alla prossima grazie